L'Unione fa la forza, in questo caso mette a segno un successo. Si archivia anche la quarta edizione di Orange Night, la festa di strada in via Marco Peregno, che quest'anno ha visto per la prima volta la collaborazione tra le associazioni di categoria che assieme agli operatori della zona hanno organizzato una serata di shopping sotto le stelle, divertimento ed ovviamente specialità gastronomiche. Sono strade all'ingresso della città e quindi dovrebbero essere più valorizzate rispetto naturalmente a quello che sono. All'amministrazione sono state fatte tante richieste che sono sullo sfondo, speriamo che le affronti. Comunque la festa ormai è un successo, gli operatori si impegnano, ha la fortuna di avere anche impegnate le quattro associazioni dell'artigianato e del commercio, quindi da questo punto di vista di buon auspicio. Gli operatori sono stati al centro dell'evento a livello organizzativo, sono stati loro i trascinatori, quindi grande merito a tutti i ragazzi dei negozi e degli esercizi commerciali e artigianali di via Marco Peregno. Noi ci abbiamo messo il cuore, abbiamo cercato di aiutarli per quello che riguarda l'organizzazione logistica e sono convinto che sarà un grande evento per la nostra città. Una nuova occasione per passeggiare in una strada chiusa al traffico, ma anche per valorizzare la rete commerciale della zona. Si sono impegnati, hanno creato un chilometro di strada con grandi attrazioni, è un modo per valorizzare i negozi dove ci passiamo meno spesso probabilmente, ma sono una ricchezza per la nostra città. È un momento importante anche perché tutte le quattro principali associazioni della città che rappresentano gli artigiani e i commercianti sono insieme per fare questa iniziativa e è un bel momento per proprio mettersi in mostra per far vedere il valore delle nostre aziende.